Il sindaco di Capaccio Pestrum, Franco Palumbo, ha nominato la dottoressa Donatella Raeli, nuovo assessore con delega al bilancio, finanze, aziende e sclucità partecipate. Noto commercialista, la dottoressa Raeli è consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Salerno. Attualmente svolge anche l'incarico di presidente di collegi dei revisori in altri comuni salernitani. In passato, inoltre, svolto l'attività di revisore dei conti presso la casa comunale di Capaccio Pestrum. Ringrazio il sindaco Palumbo per la fiducia che ha riposto in me, ha detto il neo-assessore Raeli. Da parte mia, conoscendo bene questo territorio e quali sono le esigenze, ricambierò con il massimo impegno. Con la nomina della dottoressa Raeli si completa la giunta comunale guidata dal sindaco Palumbo.